Buona giornata a tutti da Gigi Renascio, ringraziamo gli intervenuti, parenti, amici, vicini, lo andai per il matrimonio di Giuseppe e Maria Cadena in cui facciamo un calorosissimo applauso. Vi auguriamo centrati di felicità, figli già ne avete abbastanza, grazie figli, figli mascoli e figli figli, alla grande forse. Ok, bellissimo augurio, la giornata sarà ricca di sorprese, non solamente musica, tanti, ci sarà un po' di ballo, un po' di schiacci carini e proprio un bel piaccio. Un bellissimo applauso anche a questa bellissima scenografia, questa coreografia carina. Tra un po' stiamo in tema di crociere, vi farò assaporare quella che potrebbe essere l'emozione di una crociera qui allo padre. Immaginiamo, no? Di stare su una nave crociera. La signora forse qualche cosa è già stata a cominciare, forse dice, io ho capito cosa vorrebbe far fare. È vero signora? Eh?